Intro Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale Sono JoePad17 e oggi siamo tornati su Minecraft per un nuovissimo episodio Ok ragazzi siamo tornati finalmente su Minecraft Mamma mia sembra un'eternità che non giocavo più a questo titolo Ok allora l'ultima volta vi faccio vedere abbiamo praticamente cos'è quella roba là Ah è un lupo Abbiamo costruito quest'orto Come potete vedere l'ho leggermente modificato Perché praticamente l'acqua non bagnava perfettamente i semi E quindi il grano non cresceva o cresceva veramente lento Adesso come potete vedere il terreno è praticamente perfettamente idratato Allora l'altra volta vi avevo promesso che in questo episodio saremmo andati all'isola dei funghi Adesso vi faccio vedere qual è Ok andiamo sul ponte qua Su quell'isola là in fondo E ragazzi oggi ci andremo Allora intanto prepariamoci tutta la roba per la spedizione E ci vediamo tra poco ragazzi Ok ragazzi eccoci tornati Come potete vedere mi sono attrezzato Ho preso un po' di materiali che ci potranno essere utili durante la nostra avventura Ho solo dimenticato di togliere le piastre che lasciamo qua Tanto non ci serviranno di sicuro E devo ancora farmi anche una palla scusate Mi sono dimenticato Non ho più stecchetti però Allora e la facciamo subito Hop Facciamola in pietra va benissimo E ce la mettiamo magari al posto del piccone di ferro E la mettiamo qua La cobblestone la posizioniamo qua Perfetto ragazzi come potete vedere siamo abbastanza attrezzati Non ho tantissimo cibo però considerate che potremo farci le zuppe di funghi Dato che andiamo praticamente in un'isola di funghi Allora andiamo subito ragazzi Perfetto Aspettate eh Che devo controllare solo una cosa No devo anche farmi una barca scusate eh Devo anche farmi una barca Perfetto Allora la barca Vediamo se riesco a trovarla subito Eccola qua Perfetto Ok Possiamo andare ragazzi Sarà una fantastica avventura Non so se ehm Torneremo immediatamente a casa in questo episodio Magari staremo su quell'isola per un paio di ehm Diciamo giornate su minecraft Comunque come potete vedere mi sono preso anche il letto Non si sa mai Così di notte possiamo anche dormire Allora la barca ce la mettiamo qua Perfetto Posizioniamola Saltiamo a bordo E andiamo ragazzi Verso l'avventura E oltre Perfetto Qua ci sono sempre i nostri Consigli Che ci danno No 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 Sono caduto Caspita Vabbè dai ci va bene che siamo quasi arrivati eh Ci va bene che siamo quasi arrivati Intanto la barca è sempre là Purtroppo non me ne sono accorto Che caspita Guardate che roba Guardate che roba Una mucca Una mucca con dei funghi ragazzi Eccoci eccoci arrivati E voilà Naturalmente la barca Cade a pezzi Madò ragazzi guardate che roba Una mucca con sopra dei funghi Non l'avevo mai vista Mucca fungo Si usa con una ciotola Per preparare la zuppa di funghi Deposita funghi Diventa una mucca normale Quando viene tosata Spettacolo ragazzi Spettacolo E' la prima volta che ne incontro Una così su minecraft Questo qua non so che cosa sia Allora Io vi dico Guardo tanti gameplay di minecraft Dovrebbe essere il puzzle O Comunque Adesso non ricordo come si pronuncia perfettamente Però dovrebbe essere Il terreno Ehm Su cui E' molto facile far crescere dei funghi Allora Vediamo un attimo Spettacolo Ragazzi Lai in fondo c'è anche una palude Spettacolo ancora Mamma mia Allora Intanto raccogliamo un po' di funghi Ci facciamo le zuppe Qui sotto c'è qualcosa Io mi ci butto Dai 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 C'è una piccola caverna Ma non c'è niente all'interno Peccato 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 Speravo di magari Beccare una miniera Ragazzi Ok Vediamo se riesco a uscirne Magari devo rompere qualcosa No Dai dimmi che posso uscire però Aspettate eh Guardate Facciamo così Qui c'è anche del carbone Qui c'è anche del carbone Però Fatemi vedere Direi che ne abbiamo 60 Basta e avanza Allora rompiamo qua Se avessimo un piccone con silk touch Potremmo tranquillamente raccogliere Il blocco il blocco di terra Il blocco di terra con quella sostanza che permette la crescita dei funghi Invece se lo raccolgo così Come potete vedere mi rilascia solo terra Non mi da praticamente niente Peccato Allora intanto mi prendo tutti questi funghi Perché a casa sta crescendo il grano Però non ho praticamente niente da mangiare E non va bene ragazzi Perché rischiamo di morire Allora Intanto stiamo salendo di livello Siamo al livello già 25 ragazzi Ok vediamo se riusciamo a raccogliere qualche fungo anche da qua Come potete vedere questi funghi giganti si rompono tranquillamente con le mani Non rilasciano tanti funghi però eh Proviamo a usare la palla ragazzi Si si rompono più velocemente Ok Perfetto 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 Questi funghi giganti diciamo che sono stati introdotti recentemente su minecraft In uno degli ultimi aggiornamenti Ok Dai che abbiamo quasi finito Si ce ne sta dando abbastanza di funghi comunque Ce ne sta dando abbastanza Io adesso sono sceso un attimo Aspettate che torno su Ok Perfetto Rompiamo gli ultimi blocchi Direi che un fungo basta e avanza Comunque è uno spettacolo quest'isola Veramente uno spettacolo Ok Ok Vediamo quanti funghi abbiamo raccolto Abbiamo raccolto 11 funghi rossi e 12 Marroni Allora mi sa che per fare la Ehm Zuppa di funghi ho bisogno della crafting table Allora non me la son portata dietro Peccato perché potevo prenderne una da casa Tanto ne ho due Vabbè non importa Ne ho fatta una qua adesso Ok Allora ci facciamo la zuppa di funghi Eccola qua Però mi mancano le ciotole Che devo vedere un attimo come si producono Perché Non lo so ragazzi Purtroppo conosco Quelle sul computer Ma non conosco Come si produce la ciotola qua Comunque l'abbiamo già trovata Allora Eccola qua Ehm 16 Sono anche troppe ragazzi Vabbè non importa Facciamoci le zuppe adesso Op 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 Sì sì perfetto Guardate Non riusciamo più a farne Perché non abbiamo Non abbiamo più funghi Ma non importa Perché comunque danno tanta energia Poi il bello è che questo piatto Poi si può riutilizzare Quindi non c'è nessun problema Allora Intanto raccogliamo La crafting table Ragazzi la rompo col piccone qua Anche se so benissimo Che non si fa così Ok Sono Una testina Perché ho bisogno della nave Perché ragazzi Adesso voglio andare Ad esplorare La palude Che abbiamo visto prima Allora Vediamo se posso produrla Spero di sì Ecco e vai No Quindi devo crearmi di nuovo Delle assi Dimmi che bastano Sì Grandissimo Ottimo Allora Adesso con il Scusate L'ascia di pietra Rompiamo La crafting table E ce la portiamo dietro Dovremmo avere spazio Nell'inventario Sì La ciotola di funghi La mettiamo via Qui ci mettiamo la barca E ragazzi Ripartiamo subito Quest'isola È fantastica Ci ritorneremo Comunque perché magari Costruirò qualcosa qua Allora Allora fatemi vedere un attimo La mappa L'abbiamo già esplorato Però io andrei Verso la palude Ragazzi Andiamo verso la palude Allora Scendiamo Qualcosa comunque Possiamo costruire Su quest'isola Adesso mi farò Invenire in mente Qualcosa Perfetto Evitiamo di Cadere Stavolta Allora Guardate Puntiamo là In mezzo Vediamo Cosa Appare All'orizzonte Oh ragazzi C'è anche forse La giungla Spettacolo Se c'è la giungla Possiamo andare a vedere Se riusciamo a trovare Il tempio Magari c'è qualcosa Di veramente Eccezionale All'interno Non dirmi Che c'è anche il deserto Non ci credo Non ci credo Ragazzi Era tutto qua dietro Spettacolo Tutto qua dietro Quindi abbiamo La possibilità Di trovare Due templi Attenzione alle Zolle di Sabbia Allora Adesso Scendiamo Scontrandoci qua Così rompiamo la barca E possiamo scendere Perfetto Ok Andiamo all'avventura Intanto vi metto La spada Che non si sa mai Sì Diciamo che non è che ci sia Tantissimo deserto C'è un po' di deserto Non è proprio Il bioma Del deserto Comunque Direi di avventurarci Allora in quello Della giungla Ragazzi Magari possiamo Raccogliere qualcosa Di interessante Ok Ci sarà un po' Da scalare qua Purtroppo Purtroppo non ho Le enderl pearl Per muovermi Velocemente Ma non importa Ok Ok Dai Ficchiamoci dentro Qui c'è del cacao Ragazzi Allora aspettate Che voglio raccoglierlo Così possiamo Farci una piantagione Magari Non adesso Ma comunque In futuro Ok Perfetto Preso Qui c'è anche una pecora Ciao pecora Allora Qui c'è anche la possibilità Ragazzi Con il pesce Di Trovare E addestrare Un gatto Che può aiutarci Contro i creeper Non penso Di andare in miniera In questa Avventura Ragazzi Perché comunque Mi piacerebbe Esplorare la zona Qua circostante Intanto si sta facendo Notte Si sta facendo Notte Io intanto Mi preparo Il letto Allora Letto Guardate Dormiamo Sulla pianta Allora vediamo Se riesco a posizionare Il letto No Qua Ok Perfetto Mettiamoci anche Una torcia E ragazzi Buonanotte Perfetto Eccoci qua Recuperiamo la torcia Che può sempre Esserci utile Recuperiamo il letto Continuiamo la nostra Avventura Siamo sempre immersi In questa giungla Non dirmi che è già finita Ma non ci credo Ragazzi È già finita Abbiamo le montagne All'orizzonte Però è un peccato Volevo trovare il tempio Fatemi esplorare un attimo E ragazzi Allora Io esploro un attimo Qua la zona Se trovo qualcosa Vi faccio subito vedere Guardate ragazzi Che spettacolo Sto Quasi per arrivare In cima C'è ancora Praticamente Questo albero Però guardate Che spettacolo Ragazzi Veramente Minecraft Talvolta Ci regala Dei paesaggi Pazzeschi C'è una mega grotta C'è una mega grotta Là in fondo Ragazzi Tanto devo anche mangiare Utilizziamo l'ultima bistecca Perfetto C'è una mega grotta Là in fondo Allora Adesso qua Voglio Devo fare un salto Hop Dai che sono quasi In cima È stata veramente Una faticaccia Ah ma la giungla Non è mica finita Ragazzi Guardate che roba Sembrava finita Invece È praticamente Enorme Allora Voglio esplorare Ben bene Adesso scendiamo Da qua Quasi quasi Sarei tentato Di far così Visto che ci serve Anche del legno Scendiamo così Ecco e vai Ho rotto Solo un pezzo Di legno Pensavo ci fosse Il tronco Magari L'ho beccato Di qua Fatemi vedere Eccolo qua Beccato Perfetto Così raccogliamo Anche un po' di legno Che ci può sempre servire E scendiamo In modo Più agevole Non ho già più spazio Ragazzi Pazzesco Allora Intanto butto Questo che non mi serve Scendiamo piano Attenzione Che siamo belli in alto Qua Siamo belli in alto Lì sotto C'è una pecora Ok Aia Ok Non sono ancora riuscito A trovare il tempio Nella giungla Ma ragazzi Aiaiaiaiai Sono caduto giù Ma lo troverò O almeno Spero ci sia In Minecraft Per Playstation 4 Perché per PC Qualcuno è riuscito A trovarlo In Minecraft Per Playstation 4 Io spero che ci sia Ragazzi Perché non vorrei magari Fare una brutta figura Ok Qui c'è ancora funghi Ah però Non si vede niente Non si vede niente Veramente Fitta 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 Questa foresta Questa giungla Scusate È veramente Fitta Non si vede niente Peccato Peccato Non Non vedo niente Ragazzi Perché di lì inizia Già subito Un altro Biome O forse no Là c'è un'apertura Però ragazzi Andiamo subito a vedere Sembra una normale Apertura Di quelle che si trovano Normalmente in Minecraft Però comunque Voglio andare su A vedere Magari Ci mostra qualcosa Intanto Come potete vedere La giungla continua È veramente Gigantesca Quindi mi sembra Incredibile che non ci sia Niente Allora di qua non c'è Qua posso salire No Ok Magari così Eh sì Buonanotte Sono caduto Allora Hop Dai che ce l'ho quasi fatta Intanto le liane Ci danno anche una mano No no È veramente Una cosa pazzesca Ragazzi È enorme C'è anche un pollo Lì davanti Sono cascato Non ci credo Allora Devo trovare un modo Di scendere Senza magari Ammazzarmi Perfetto È veramente Fitta 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 Mi sento un pochettino Tarzan in questo momento Ragazzi Mi sento un pochettino Tarzan Ma Del tempio Aspettate Aspettate che Magari Ho visto qualcosa Là in cima Io intanto Continuo sempre a cercare Ragazzi Non demordo Ok Ok Qui creiamoci Un varco Con L'ascia Ok Spacchiamo anche qua La terra La terra Lo so ragazzi Si spacca Con la pala Però Considerate che Sto cercando Di farmi largo Qua Sono quasi arrivato Si No Mi sa che non c'è proprio niente Ragazzi Mi piacerebbe vedere Cosa c'è lì in cima Allora Facciamo così Rompiamo qua Terra Dimmi che posso salire No E vai No 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 Ai 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 Sono cascato Sono cascato Niente Di lì non si può passare Allora proviamo a passare Di qua No Di qua non si riesce Così Ce la devo fare ragazzi E devo riuscire a passare Di lì Devo riuscire a passare Di lì Rompiamo ancora questo Perfetto No Siamo tornati in cima Agli alberi Da qua non vedo niente Però ragazzi Non vedo Assolutamente niente Peccato Veramente peccato Allora Proseguiamo Di qua Saltando Da un albero All'altro Là in fondo C'è della lava Potrei quasi quasi Andare a raccoglierla Ragazzi Perché tanto Ho il secchio Allora Salta Attenzione a non morire Intanto mangiamo Usiamo una di queste Zuppe Ne abbiamo tante Inoltre Ci permettono di recuperare Un sacco di vita Perfetto No 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 Non buttarti giù mai Non buttarti giù mai Anche qua Potrei fare la stessa cosa Che ho fatto prima Devo solo trovare Il tronco centrale Che ho trovato Ragazzi Sono anche fortunato Perfetto Guardate quanta legna Stiamo raccogliendo Solo scendendo Dagli alberi Magari con questa Con questa legna Possiamo poi fare Qualcosa di interessante Anche perché È un tipo diverso Rispetto alla legna Che possiamo trovare Nel nostro biome Dove abbiamo casa Che come avete visto Abbiamo cambiato Nell'ultimo episodio Ne ho costruita un'altra Un po' più carina Adesso poi Bisognerà Magari Decorarlo un po' Sono cascato di nuovo Oggi ragazzi Mi spacco le ginocchia Veramente Oggi mi spacco le ginocchia In questa giungla Però come vi avevo detto Prima di entrare Vi avevo già Anticipato Che sarebbe stata Dura Oh Qui c'è una mega caverna Sono tentato ragazzi Dai Solo un'occhiatina va Solo un'occhiatina Speriamo non sia Profonda tanto Carbone Ferro Ragno Madò ragazzi Come va giù Madò come va giù No 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 Io ho detto che oggi Non avrei fatto Episodio in miniera Quindi non si va in miniera Aiaiaia Scheletro 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 Ha tentato di colpirmi Sapete cosa faccio ragazzi Facciamo così Che ho anche della cobblestone Con me Così evitiamo di essere colpiti Dagli scheletri Hop E hop Loro rimangono là dietro Ehm Caspita non ho più spazio Che butto Che butto Che butto No questo qua si può impilare qua Perfetto Allora usciamo da qua Intanto ho raccolto anche un po' di Ferro Prendiamoci il carbone Che dato che siamo all'inizio Può esserci sicuramente molto utile In più ci dà anche esperienza ragazzi Ci dà esperienza Magari oggi possiamo Riuscire a passare Al livello 26 Adesso all'inizio della puntata Ero già al livello 25 Forse O comunque Alla fine del 24 Non ho neanche più spazio Già per il carbone Allora Eh ma perché ho riempito tutto Con quelle Zuppe di funghi Purtroppo Riempiono ben bene La barra salute Però occupano anche Un sacco di spazio Allora No Questo non posso buttarlo Non posso buttarlo Che butto Che butto Mi spiacerebbe buttare via questi Ragazzi Vabbè ma tanto devo mangiare Ok Mangiamo allora il Pane Perfetto Allora solo un secondo Mangiamo questo Perfetto Recuperiamo tutto C'è ancora del carbone lì Che adesso prendo subito Ok ragazzi Ah no C'è ancora questo Mamma mia Che miniera di carbone Ragazzi Che miniera di carbone Preso tutto Sì Ok Usciamo da qua Usciamo da qua Perché Vabbè Tanto star qua dentro Star fuori Non cambia niente Allora Piazziamo una torcia E Dormiamo subito Ragazzi C'è anche Dell'altro carbone Là in fondo Perfetto Ok Ok Oh Guardate 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 Peccato Caspita Che non ho Ah Caspita Non ho il pesce Peccato Se no avrei potuto Tentare di trasformarlo In un gatto E portarlo a casa Niente Comunque Anche In minecraft Per playstation 4 Esistono Adesso lo sappiamo Ragazzi Poi dovremo fare Un'altra spedizione Per prendere Uno di quei Gheppardi Adesso Usciamo da qua Qui c'è un'altra Scusate un attimo Che senza volerlo Ho scoperto Un'altra grotta Qua Metti una torcia Ah no Ok Finisce qua Lì c'è del carbone Però vabbè Direi che ne abbiamo preso Già abbastanza Per oggi Ne ho uno stocche Qualcosa Perfetto Allora noi continuiamo Sapete cosa faccio Vado a raccogliere Quella lava Anzi questa lava Dato che è qua dietro Ah qui c'è stato Un incendio Guardate Quanto abbiamo di cibo No ce l'abbiamo Abbastanza Allora Intanto Con il secchio Raccolgo la lava Che può esserci Poi utile Stando attento A non Bruciarmi Se non rischio Di morire Qua Allora Facciamo una cosa Faccio il giro Perché probabilmente Devo ficcarmi Proprio All'apertura Prendila Non me la prende Aspettate eh No non me la prende Strano Strano che non me la prenda No ma dai Prendimela No Non riesco a prendere La lava ragazzi Non capisco Il perché Vabbè Proseguiamo Non perdiamo tempo Qui altra canna Da zucchero Che raccolgo Vabbè Questi qui ragazzi Buttiamoli La mela Poi ce la mangiamo Adesso poi Nella prossima spedizione Mi porterò Il pane Che forse è meglio Perché occupa Meno spazio E si può Impilare Tranquillamente Così avremo Più slot Per Per metterci Altri materiali Che magari Troviamo Durante la nostra Spedizione O le nostre Spedizioni Perché sicuramente Ne faremo più di una Ragazzi La giungla continua Ancora qua È pazzesco È pazzesco È pazzesco Ok 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 Caspita Ma sto tempio Dove Caspita Potrebbe essere Sono curioso Ad andare a vederla In cima Allora aspettate Facciamo così Utilizzo un po' Di cobblestone Posso salire Sì Ok 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 Hop 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 Voglio andare in cima Qua a vedere Cosa c'è Perfetto Dai che ci siamo Quasi Dai che ci siamo Quasi Non campiamoci giù Ecco lo sapevo Vabbè Allora facciamo così Guardate Hop 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 Dai 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 che sono quasi in cima Da qua possiamo sicuramente Avere una vista migliore Allora Là sotto ci sono altri due laghetti Perché sono cascato Certo c'è del carbone qua Ho trovato anche del carbone Allora Attenzione a non cadere Che siamo abbastanza in alto Aspettate che mi piazzo qua sopra Ok Ce l'ho fatta Allora Madonna ragazzi Che giungla È pazzesca Magari potrebbe essere lì il tempio O siamo già stati lì Non lo so ragazzi Più che altro perché mi sto anche perdendo Eh sì Siamo già fuori dalla mappa Siamo già fuori No 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 Non buttare mai questa qua Non buttarla mai Allora Là c'è un'altra specie di palude Là c'è la giungla di nuovo Mi piacerebbe andare in cima con la montagna là ragazzi Allora scendiamo Utilizziamo sempre lo stesso metodo Che secondo me è il migliore Speriamo solo che non si rompa Lascia Hop E ci siamo quasi Madonna ragazzi Guardate che spettacolo Che spettacolo Oh veramente uno spettacolo Non c'è che dire Ok Di qua cosa c'è Di qua poi inizia un altro Biome Siamo tornati ai confini Della giungla Mi sa Sì Sì Là c'è la palude E là in fondo Non so cosa possa esserci Magari un'altra giungla Che mi sembrava di aver visto una pianta Vado che alto qua Mi verrebbe la tentazione di camparmi giù ragazzi E mi verrebbe veramente la tentazione di camparmi giù Ok Ok C'è qualcosa là sotto No Scusate eh Ecco Così è più comodo Fighissimo salire là in cima ragazzi Sarebbe fighissimo No vabbè ma dai Mi accontento Sono già salito abbastanza in alto Intanto scendiamo Senza magari ucciderci Vabbè Oramai è sottinteso Che dobbiamo perdere un cuore Ogni volta che facciamo un salto In questo Biome Ecco Anche mezzo Ah 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 Dai che sono quasi giù Sono quasi giù Sono quasi giù C'è un pollo qua sotto Mi piacerebbe lanciarmi ragazzi Però Mi sa che rischio di morire Proviamo Per un pelo ragazzi Per un pelo Ho rischiato di schiantarmi sul terreno Intanto prendiamoci qua la canna da zucchero Che può esserci utile Per magari preparare qualcosa di interessante Ok E ragazzi vediamo eh Io proseguo ancora un po' Qui ci sono dei fiori Allora vediamo 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 Ok Ok Altri semi di cacao Niente 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 il tempio Non l'abbiamo Neanche sfiorato Però in compenso Abbiamo trovato Quella caverna O quella specie Di caverna Che avevamo forse visto dall'alto Qualche minuto fa Qui sono praticamente al confine Con la giungla Qui inizia il biome Probabilmente delle grandi montagne rocciose Allora Direi di fare una bella cosa ragazzi Nel prossimo episodio Direi di continuare la nostra esplorazione Qua Prima di tornare a casa Perché mi piacerebbe raccogliere Qualcos'altro di interessante Non ho praticamente raccolto niente A parte legna Che naturalmente ci può tornare utile Un po' di carbone Che vabbè Possiamo trovare anche dalle nostre parti E Naturalmente Semi di cacao Che possiamo trovare solo nella giungla Là c'è un polipo Ho preso un colpo Pensavo fosse un ragno Qui è pieno di caverne Ragazzi Allora Direi di fare una roba Possiamo fermarci qua Nel prossimo episodio Esploreremo questo biome Poi Non so cosa succederà Magari continueremo la nostra esplorazione O magari torneremo a casa Dobbiamo stare attenti solo a non perderci Direi di terminare l'episodio qua Per il momento Ragazzi Se vi è piaciuto Mi raccomando Lasciate un mi piace Commentate Condividete Iscrivetevi al canale Se volete tenervi aggiornati Su questa serie Ma anche su tutte le altre Che sto facendo in questo periodo Il tramonto ci saluta Anche lui Sta per giungere la notte Ragazzi Ci vediamo Nel prossimo episodio Sempre qui Su Minecraft Alla prossima Ragazzi D' 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 Grazie a tutti.